Prima fase per il lancio di Inno Social Metro, l'iniziativa con cui la città metropolitana di Torino intende contribuire all'evoluzione verso un modello economico più giusto, sostenibile e resiliente, proponendo uno strumento di sostegno finanziario per le micro e piccole imprese. La misura è stata presentata presso la sede della città metropolitana a mercoledì 14 giugno a coloro che vorranno proporsi come soggetti attuatori e accompagnare le imprese nel percorso di sviluppo dei progetti. Inno Social Metro è un'iniziativa che si inscrive perfettamente all'interno del piano strategico della città metropolitana che mira alla promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori. In che cosa consiste? Prende le mosse da una misura precedente che era Inno Metro e questa volta mira a sostenere l'iniziativa delle piccole e micro imprese che nella loro attività for profit generino degli impatti socialmente desiderabili. Che cosa intendo con questo? Impatti sociali, intendo misure a sostegno dell'occupazione, della promozione dell'occupazione di categorie più esposte, più fragili, oppure processi che mirino al rispetto dell'ambiente, iniziative per un turismo più sostenibile. Questo bando si articola in due momenti. Un primo momento che selezionerà quelli che saranno i soggetti attuatori che accompagneranno le imprese nella redazione di questi progetti. Questi progetti che poi verranno valutati nei loro impatti tangibili e misurabili e i progetti che verranno validati riceveranno poi un sostegno di carattere economico. Parte a fondo perduto per un massimo del 50% dell'importo del progetto e parte in conto interessi. Io credo che gli impatti sociali, cioè mirare ad una società che sia più giusta, più equa e più sostenibile, non sia più un'opzione, ma che sia l'unica direttrice possibile. Tant'è che sempre più spesso i parametri attraverso i quali si valuta l'attività di impresa non sono più parametri strettamente economico-finanziari, ma sono anche parametri di carattere ambientale, sociale e in termini di sostenibilità.